Guardi, come ha già detto il nostro amministratore legato all'inizio di questa vertenza troveremo una soluzione, quindi direi che questo periodo è stato anche in parte inevitabile, fisiologico possiamo dire, ma arriveremo anche a trovare poi una sintesi condivisa con le organizzioni dei lavoratori. Nessuno ha mai parlato di trasferimento della sede di Firenze a Bologna, quindi la questione non si pone, è necessariamente prevedibile una riorganizzazione complessiva delle varie strutture operative che rendono più efficiente la struttura.